L'unica risposta è il cambiamento che il Partito Democratico di Matteo Renzi ha messo in campo dall'inizio del suo mandato. Cambiamento nello stile della politica, cambiamento nei costi della politica, cambiamento delle norme nel rapporto tra la politica e l'organizzazione dei lavori. Cambiare si può, bisogna farlo con grande rapidità e con grande forza. I cittadini italiani anche nelle ultime elezioni ci hanno dato un mandato di grande speranza e noi bisogna che non tradiamo quel mandato.